Due feriti di cui uno grave e due donne ancora sotto shock e questo è il bilancio del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio alla stazione di sosta del distributore BP alle km 96 e 300 dell'Aurelia all'altezza di Tarquinia. Una coppia di israeliani a bordo di una lancia musa si è fermata per far benzina. Subito dopo il guidatore è sceso per pagare ed è entrato nel gabbiotto del distributore. Mentre stava pagando è arrivato un camper che ha travolto tutto. Il gabbiotto è andato in pezzi letteralmente distrutto. Ad avere la peggio è stato l'israeliano che subì soccorso e è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma con l'elisoccorso del 118 per trauma cranico. L'autista del camper è ferito e è stato trasportato all'ospedale di Tarquinia. La moglie del ferito è israeliano e la moglie dell'autista del camper fortunatamente non hanno riportato ferite ma sono rimaste scioccate. Il benzinaio ha riportato solo lievi escoriazioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo provenienti dalla sede di Tarquinia. Il 118 l'ambulanza La Misericordia e i carabinieri di Tarquinia che hanno subito avviato le indagini per appurare i motivi che hanno portato a questo tragico incidente.